Io porto tutta la ricchezza di questo luogo. Giuliano celebra e saluta Monsignor Stefano Rega, neoviscovo di San Marco Argentano, Scalea. Questa mattina Sua Eccellenza è stato accolto presso la Casa Comunale dall'amministrazione e dai suoi cittadini. E quindi questo è l'accompagno della tua nuova missione pastodale. Presenti anche le forze dell'ordine e i sindaci delle cittadine dell'area giuglianese. Una mattinata di gioia e forte emozione. Io porto tutta la ricchezza di questo luogo, lo dicevo già prima, di cultura, di fede, di tradizioni. Quindi quello che sono oggi e quello che sono chiamato ad essere, è certamente il frutto, tutto quello che è assimilato in questi anni nella mia città. Per cui porterò tanto e lo condividerò con questo nuovo luogo che mi aspetta. Un grande orgoglio per tutto il territorio. Un momento importante per la nostra città, la nomina di Sua Eccellenza Don Stefano Rega, quale vesco della nuova San Marco Argentano Scalea. Quindi è un orgoglio della nostra città che esportiamo nella Calabria. veramente è stato un momento emozionante, un momento vivo e dove si è stretta la comunità giuglianese intorno a Sua Eccellenza. Padre, Figlio e Spirito Santo, amici. Beh, come si dice, andiamo e rimaniamo in pace.